Yon and Yon, Madrid 1984, è nato in una famiglia profondamente legata alla cultura, appassionandosi alla musica, alla letteratura e all'arte fin da bambino. Figlio di un cantautore, ha studiato all'Isset Francais di Madrid e ha conseguito le lauree in giurisprudenza e in scienze politiche e dell'amministrazione presso l'Università Carlos III di Madrid. Ha vissuto a Roma, dove ha studiato, legge e lavorato nel mondo dell'arte per l'ufficio mecenatismo dei Musei Vaticani, oltre che a Los Angeles e California, dove ha conseguito un master in diritto dello spettacolo e business presso la University of Southern California, lavorando anche come consulente in materia di cinema e musica. E' poliglotta e musicista, attualmente lavora in una società di produzione audiovisiva di Madrid, ha pubblicato una grande quantità di libri per versi e attualmente partecipa a diversi festival internazionali di poesia come Cosmopoetica e il Festival Internazionale di Poesia della Costa Rica.